L'assessorato regionale beni culturali, servizio patrimonio architettonico, storico e contemporaneo ha dato parere favorevole al finanziamento dei lavori di somma urgenza che riguardano alcuni monumenti della provincia di Ragusa. Nello specifico 49.800 euro saranno destinati per i lavori riguardanti la chiesa Santa Maria delle Stelle a Comiso. 95.800 euro arriveranno per il restauro della cupola della Cappella di San Giorgio a Modica. 80.000 euro per il fabbricato rurale e muri di contenimento nell'area demaniale di Castelluccio in territorio del comune di Scicli. E infine 98.600 euro per il castello dei tre cantoni e zone limitrofe al comune di Scicli. Finanziamenti da tempo richiesti da parte della sovrintendenza di Ragusa e che adesso hanno trovato il benestare della regione così come confermano in una nota i deputati Bleo, Razio Raguse e Nino Minardo. I parlamentari avevano incontrato l'assessore regionale beni culturali Sebastiano Tusa sollecitando lo sblocco delle pratiche riguardanti le richieste provenienti dalla sovrintendenza di Ragusa proprio per l'erogazione dei finanziamenti riguardanti le opere in questione meta di numerosi turisti che arrivano in provincia.